Nel decreto sblocca cantieri puntiamo a venire in soccorso della salvaguardia dell'equilibrio idrogeologico di Venezia e della Laguna. Lo afferma il Ministero delle Infrastrutture in una nota, precisando che in Parlamento è stato presentato un emendamento articolato che prevede la nomina di un commissario straordinario che sovrintenda le fasi di completamento collaudo e avviamento del MOSE. Il commissario assume le funzioni di stazione appaltante e opererà in raccordo con la struttura del provveditorato interregionale alle opere pubbliche per Veneto, Trentino e Friuli, l'organismo subentrato dopo l'abolizione del magistrato alle acque. Il testo dell'emendamento prevede che la nomina del commissario avvenga entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del MIT ed intesa con gli enti interessati. È prevista anche la costituzione di un'apposita struttura pubblica con partecipazione e capitale sociale di MEF, MIT, MIBAC, Regione, Città Metropolitana Comune e Autorità Portuale di Venezia che dovrà coordinare l'esecuzione e l'affidamento delle attività di gestione e manutenzione del sistema. Ci saranno novità anche per la salvaguardia della laguna. L'emendamento prevede lo sblocco di 265 milioni di euro fino al 2024 per le opere di salvaguardia della laguna. In particolare 25 milioni riguardano il 2018, mentre 40 si prevedono per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Il costo per la gestione e la manutenzione del MOSE è stimato in circa 100 milioni di euro l'anno. L'esigenza di sbloccare i cantieri dell'opera giunti al 94% e per cui sono già stati spesi oltre 6 miliardi di risorse pubbliche non è più rinviabile, scrive il deputato PD Pellicani. Un altro commissario arriverà mai? Non è pensabile, continua a sperare di governare Venezia a colpi di decreti.